Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca, venerdì ci sarà l'autopsia sul corpo dell'anziana trovata senza vita in via Montanara d'Arezzo e che era morta almeno tre mesi fa. È stata indagata, la figlia ce ne parla in questo servizio. Chiara Sadotti. È stato iscritto nel registro degli indagati il nome della figlia e convivente della 92enne ritrovata senza vita in avanzato stato di decomposizione all'interno dell'appartamento di via Montanara nel quartiere di Seione. Il cadavere dell'anziana era stato ritrovato lo scorso 31 agosto dopo l'allarme lanciato dal proprietario di casa. La morte però risalirebbe ad un periodo che va dai tre mesi ai sei mesi fa, secondo quanto emerso dalla ricognizione cadaverica. La figlia della 92enne, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della madre, risultava irreperibile. A rintracciarla in un albergo della Riviera Romagnola, la squadra mobile retina assieme ai colleghi della questura di Rimini. Ascoltata come persona, informata sui fatti, non è stata in grado di spiegare cosa sia accaduto. Adesso è indagata per abbandono di incapace. Intanto ieri gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un secondo sopralluogo nel corso del quale è stata anche rimossa la carcassa del gatto, sulla quale sarà svolto l'esame autoptico per capire le cause e la tempistica della morte. In parallelo sarà svolta venerdì l'autopsia sul corpo dell'anziana disposta dal PM Giulia Maggiore e sono anche in corso accertamenti bancari. Ancora cronaca, si era introdotta nell'ambulatorio della guardia medica di Prato Vecchio Stia e aveva rubato un telefono. Poche ore dopo i carabinieri della compagnia di Bibbiena sono riusciti a rintracciare e a denunciare l'autrice del furto e a restituire il cellulare al medico, strumento essenziale per consentire la reperibilità e il rapido soccorso dei pazienti nelle aree servite proprio dalla guardia medica. L'autrice è una donna che si era introdotta all'interno dell'ambulatorio durante la sua apertura, aveva sottratto il dispositivo e per questo è stata denunciata. Ed è stato arrestato un uomo che aveva aggredito la guardia giurata in servizio alla filiale Banca Popolare dell'Emilia Romagna in Corso Italia. Vediamo il servizio. È accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni per aver aggredito una guardia giurata in servizio alla sede di Arezzo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Per questo sono scattate le manette per un cittadino di origine straniera. L'episodio lo scorso lunedì in Corso Italia, dove l'uomo ha dato un'escandescenza aggredendo l'addetto alla sicurezza che per difendersi ha dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino. Sul posto le volanti della questura di Arezzo che hanno cercato di convincere l'aggressore e a seguirli per alcuni accertamenti. Ma a questo punto l'uomo ha cominciato di nuovo ad alterarsi, arrivando addirittura ad afferrare la fondina di uno dei poliziotti. I colleghi gli sono piombati addosso e lo hanno immobilizzato in tempo per scongiurare il peggio. È stato portato in questura e sono state raccolte le testimonianze sia del responsabile dell'agenzia bancaria che della guardia giurata aggredita che ha dovuto far ricorso alle cure mediche per le lesioni riportate. Al pronto soccorso si è recato anche un agente di polizia. L'uomo è stato a foto segnalato e tratto in arresto. A conclusione del processo per direttissima è arrivata la convalida con la misura della custodia cautelare in carcere. E adesso parliamo dei disordini avvenuti all'ultima giostra del Saracino perché il sindaco Ghinelli annuncia che presenterà una denuncia per i fatti avvenuti in via Mazzini la scorsa domenica e anche durante il corteo storico. E condanna peraltro i tafferugli che si sono verificati di fronte al teatro Petrarca. Ascoltiamolo. Non possiamo far passare questo episodio violento che c'è stato in via Mazzini come semplicemente un tema legato al rapporto tra un dipendente e una persona. C'è dietro dell'altro, le transenne sono state spostate dal piano stradale, suolo pubblico, in un luogo privato contiguo e a quel punto chi è entrato dentro si è trovato davanti chi non gliele voleva far recuperare, cioè quello è materiale pubblico. Era una decisione presa in comitato ordine e sicurezza pubblica e quindi doveva essere attuata. Non possiamo lasciar correre questo tema e quindi io vado a sporgere le denunce oggi pomeriggio alle cari penieri. I fatti sono quelli accaduti la scorsa domenica in via Mazzini dove delle dieci transenne che dovevano essere risposte per il corteo storico della giostra del Saracino gli operai ne hanno trovate solamente tre. Le altre si trovavano su un terrazzo che si affaccia sulla strada ma quando un operaio ha tentato di recuperarle sarebbe stato aggredito. A questo spiacevole episodio si aggiungono poi le immagini di tafferugli di fronte al teatro Petrarca. Purtroppo si è assistito a una violenza perpetrata anche usando le armi che fanno parte della coreografia del corteo e questo è un problema grosso perché sono oggettivamente delle armi e quindi il fatto che possano rimanere tali e non diventare oggetti di plastica sta tutto nei comportamenti di chi le tiene in mano. Tra le misure che lei sta ipotizzando per le prossime manifestazioni addirittura l'antidoping, perché? Perché i comportamenti che si sono visti non sono consoni di una persona lucida. Dico solo questo. Ecco, c'è anche l'ipotesi di annullare proprio il corteo. Allora, questo è l'ultima razio. Io spero proprio di non doverci arrivare. Il corteo è la parte che è più interessante per chi non è riuscito a entrare in piazza. Mi riferisco ai turisti, mi riferisco agli aretini che non sono riusciti a comprare il biglietto e quindi è un pezzo di Saracino. E perché dobbiamo rinunciarci? Certo che se la violenza non riesce a essere contenuta in alcun modo non sarò nemmeno io a dire di non fare il corteo. Probabilmente sarà il Comitato d'Ordine di Sicurezza Pubblica a chiederlo. Da qui l'appello ai quartieri. Va a tutti gli amanti della giostra, quindi va alla nostra comunità. Questa è la festa della nostra città e non può essere violentata in questo modo. Noi rischiamo veramente di fare dieci passi indietro. Non è con le misure restrittive che si ottiene qualche cosa. Qui ci vuole un passo indietro da parte di tutti, una presa di responsabilità forte, con un segnale forte e per ricostruire un'idea di giostra che sia diversa. Parliamo adesso di maltempo. Un codice arancione per pioggia e temporali forti è stato emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale per la giornata di giovedì 5 settembre. Interesserà dalle ore 6 fino alle ore 18 la costa centrosettentrionale con le zone interne a ridosso e l'arcipelago. Per l'intensità dei fenomeni saranno possibili forti colpi di vento, grandinate ed effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. che potrebbero verificarsi anche in maniera repentina e improvvisa. Tutta la Toscana sarà comunque interessata dal peggioramento delle condizioni di meteo determinato dall'infiltrazione di aria più fresca in quota. E torniamo in comune perché la vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti lancia un'allarme per quanto riguarda i posti nelle RSA a retine e annuncia per il mese di ottobre il primo focus sulle politiche della terza e quarta età. Ascoltiamola. Le liste d'attesa sono raddoppiate in Toscana e segnano un più 30% ad Arezzo, ma non solo. Pochi posti e troppo cari con famiglie sempre più in difficoltà e rette che possono sfiorare anche 4.000 euro se non ci sono le compartecipazioni regionali e comunali. È un panorama senza dubbio preoccupante quello illustrato dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti in merito alle condizioni degli anziani che hanno bisogno di un posto in una struttura. Le compartecipazioni, spiega, sono sempre più onerose e ricadono sulle finanze pubbliche in un vortice che in Toscana appare sempre più senza controllo. Adesso è sotto gli occhi di tutti che questo sistema rischia il collasso producendo iniquità e profonde ingiustizie sociali. Da tempo il comune di Arezzo lancia l'allarme, ma propone anche soluzioni che da ultimo sembra possano trovare alcuni spiragli di riflessione, condivisa e risposte pragmatiche. Quel che è certo è che così non va, per questo metto a disposizione la città di Arezzo per ospitare un dibattito sulle nuove politiche della terza e quarta età. Dibattito aperto, laico, concreto e non ideologico che parla della realtà. Poi l'annuncio, entro ottobre in collaborazione con il Garante degli Anziani faremo un primo focus a Municipale Età d'Argento. Propongo fin da ora che sia quello il luogo giusto per confrontarci assieme con tutti quelli che vorranno prendere atto che così non va e che il sistema ha bisogno di modifiche puntuali e veloci. Noi siamo pronti, conclude, e sappiamo che alle famiglie e ai nostri anziani ora servono risposte. Parliamo di sanità perché è stato effettuato il primo intervento svolto interamente con tecnica robotica di tumore al pancreas all'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo Grosseto, nell'ASL Toscana Sud-Est, dunque, anche Arezzo si adegua alle nuove tecniche e da oggi è possibile eseguire una pancreosectomia utilizzando esclusivamente il robot Da Vinci. L'intervento è stato operato nei giorni scorsi su una paziente quarantenne in buone condizioni di salute dall'equip della Chirurgia Generale d'Urgenza guidata dal dottor Marco Deprizio. Sempre per il mese di settembre sono in programma al San Donato altri due interventi con il robot Da Vinci per il trattamento del tumore al pancreas. Dal 2010 ad oggi al San Donato di Arezzo sono stati effettuati oltre 6.000 interventi con tecnica mini-invasiva con il robot Da Vinci, di questi 2.500 di curiurgia generale. Subito dopo la pandemia l'attività è progressivamente aumentata sia in termini numerici sia in termini di complessità della casistica trattata. E adesso andiamo a Caprese Michelangelo dove c'è stato un intervento acrobatico per difendere il reticolo idraulico e le infrastrutture dalla minaccia di caduta improvvisa di piante in cattive condizioni di salute e conservazione. Il servizio. Tagli acrobatici salva fiumi e salva ponti. Sul fosso di bagno piattaforme aeree e tri-climber in azione per eliminare la minaccia di piante malate in punti inaccessibili. Un intervento che ha visto il comune di Caprese Michelangelo e il consorzio di bonifica 2 Alto Valderno alleati per difendere il reticolo idraulico e le infrastrutture. L'amministrazione ha realizzato un importante progetto di restauro per rimettere in sesso i punti presenti lungo le strade comunali e il consorzio, impegnato nell'attuazione del piano delle attività 2024, si è mosso in sinergia con il municipio per eliminare le piante pericolanti che cadendo all'improvviso avrebbero potuto danneggiare opere idrauliche ed infrastrutture, oltre a ridurre la luce dei ponti appena rimessi a nuovo. Particolarmente spettacolare si è rivelato l'intervento sul fosso di bagno, illustra l'ingegnere Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica. Qui, infatti, la presenza di briglie, scogliere, cavi di servizi e la vicinanza al ponte della strada comunale ha reso necessario effettuare gli interventi di taglio dall'alto, una lavorazione di manutenzione ordinaria che ancora una volta si è trasformata in uno spettacolare ed acrobatico intervento. Quarant'anni dopo quel 1984, l'archivio diaristico nazionale taglia un traguardo significativo. Si tratta della quarantesima edizione del premio Pieve Saverio Tutino che si terrà dal 12 al 15 settembre con 20 appuntamenti a collegare tre date cardini della storia dell'istituzione di Pieve Santo Stefano, ovvero 1944, 1984 e 2024, separate tra loro dallo stesso intervallo di tempo, 40 anni. Nelle tante iniziative editoriali, teatrali, espositive, si avvicendano altri vecchi e nuovi amici dell'archivio, persone comuni, autori assieme a intellettuali, storici e artisti impegnati nella cultura della memoria. Il premio Tutino giornalista 2024 vuole ricordare Ilaria Alpi e Miran Hodvatin e il loro coraggio nella ricerca della verità scomoda. Intervengono tra gli altri Maurizio Mannoni e Walter Verini, mentre il premio Città del Diario è per il regista Giorgio Diritti, attribuitogli per l'impegno civile l'attenzione che ha sempre dedicato alle storie marginali. Otto i finalisti del premio con storie di guerra, di lavoro, di violenza e sopraffazione sulle donne che attraversano tre diari, tre memorie, due autobiografie. Tra loro sarà nominato il vincitore che, offrendo uno spaccato della società italiana del passato, sarà sempre comunque attuale. Ed è al via la quattordicesima edizione di Via Romana in festa. Sabato 7 settembre torna l'appuntamento dell'atteso evento organizzato da confesercenti e dai commercianti della zona. Dalle ore 18 fino a mezzanotte l'arteria di ingresso alla città si trasformerà in un'accogliente isola pedonale. Le auto lasceranno posto a spettacoli e al passeggio con i negozi protagonisti di un evento atteso dalla cittadinanza. Le attività di Via Romana daranno il benvenuto ai visitatori, una festa, quella dei commercianti, ormai entrata nel calendario degli eventi cittadini che si ripetono ininterrottamente. E sempre sabato 7 settembre il regista Marco Tullio Giordana sarà l'ospite d'onore del Cinema Eden di Arezzo per la proiezione del film La vita accanto. Doppio appuntamento a conclusione della proiezione delle ore 16 ed introduzione di quella delle ore 18 e 30. L'appuntamento è a cura di Officine della Cultura. Adesso parliamo di sport. Montevarchi diventa la casa dello sport in occasione del terzo Memorial Paolo Rossi 2024 trofeo Greek. Domani 5 settembre alle ore 18 e 30 si terrà l'evento di apertura allo spazio Politeama con la presentazione delle squadre partecipanti. Circa 500 gli atleti tra categorie under 14 maschile e femminile e under 17 appunto femminile che si sfideranno all'insegna del fair play. Presente alla serata inaugurale la banda dell'esercito italiano composta da 51 elementi che eseguirà l'inno nazionale ed europeo in onore delle squadre provenienti da fuori Italia ma anche un repertorio tratto dal compositore Ennio Morricone. E domenica 8 settembre invece si svolgerà al villaggio Amaranto la fase finale del trofeo Memorial Umberto Paglicci riservato alla categoria esordienti secondo anno. Giunta alla settima edizione la manifestazione è nata nel ricordo dell'imprenditore aretino grande appassionato di calcio e vicino attraverso la sua azienda Galva mette insieme alla Gimet Brass ai ragazzi e all'attività dell'Arezzo Football Academy. In questa edizione si contenderanno il trofeo e i padroni di casa con Perugia, Arezzo, Montevarchi, Terra Nuova Traiana e anche Tegoleto. Fischio d'inizio al villaggio Amaranto dalle ore 15 con le squadre impegnate in due raggruppamenti e il finale è previsto per le ore 18. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci.